Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco che sono intervenuti in via Fiumicello a Piove di Sacco dove era in corso un incendio. Le fiamme sono scoppiate nell'edificio che una volta ospitava un canile. I pompieri hanno domato il rogo e visto la persona morte a tra le fiamme. Potrebbe trattarsi di qualcuno che aveva trovato ricovero nell'edificio fatto di un solo piano in disuso. Sul posto il nucleo investigativo territoriale dei pompieri e i carabinieri della locale stazione sono scattate le ricerche per capire cosa sia accaduto all'interno di quello stabile e l'identità della vittima.